Abbiamo voluto rappresentare che le prospettive nazionali sono cambiate perché sono cambiati i meccanismi di investimento per cui le risorse che il PNRR mette a disposizione. Il Fondo Sociale Europeo per la prima volta non si dedica solo più del sociale ma parla del sanitario e mette proprio tra le sue priorità la destinazione degli ospedali di montagna. I soldi che spenderemo per fare uno nuovo si possono spendere per fare ali nuove, per potenziare, per migliorare, per rendere tecnologicamente avanzati i due ospedali attualmente esistenti di Verbagna e di Domodossola. I sindaci lo hanno comunque apprezzato, i documenti che abbiamo illustrato sinteticamente verranno trasmessi a ciascuno di loro in questi giorni di modo che la conferenza dei sindaci possa fare una riflessione in tal senso. Quindi l'ipotesi dell'ospedale unico tramonta? No, l'ho appena detto, ho detto, noi ci siamo trovati nel 2019, il territorio io veni qua la prima volta e ho detto al territorio ci dite dove farlo per piacere? Perché ovunque nel resto del Piemonte noi abbiamo chiesto dove farlo. Il territorio ha avuto, non diciamo, una situazione unitaria, tant'è che poi siamo ritornati noi nel novembre e abbiamo individuato quella che ritenevamo fosse la scelta più idonea. Poi bisognava partire con gli atti, ma è partito il Covid prima di noi, perché parliamo di febbraio 2020 e la riunione è nell'estate 2019 e questo, come vi dicevo, ha sospeso, non bloccato, ha sospeso le attività di programmazione sanitaria, ma credo che sia abbastanza facilmente comprensibile questo aspetto. Ora, venti giorni fa finisce l'emergenza, ritorniamo subito al lavoro e andiamo avanti. Noi possiamo tranquillamente impostare un meccanismo di spesa che sia equivalente al nuovo ospedale, cioè le spese previste per il nuovo ospedale. Adesso si stava parlando, nella prima ipotesi che è stata ragionata, di 100 milioni di investimenti sui due ospedali, quello di Verbagno e quello di Domodossola. Quindi non è un risparmio, perché se c'è una cosa... 100 e 100. Sì, sì, 100 e 100. E questo vuol dire davvero un potenziamento, vuol dire nuove edificazioni, vuol dire tanto. Ma se il Covid davvero ci deve aver insegnato qualcosa, è a cambiare un po' la nostra testa nella gestione della sanità pubblica. Quindi alla luce di questo cambiamento, questa opportunità, va nell'interesse della sanità del VCO? L'ho chiesto alla conferenza. Se mi diranno di sì, saremo tutti confortati e andremo in quella direzione. Se mi diranno di no, noi rimaniamo fermi, come l'abbiamo detto e dichiarato, sulla posizione che non è ospedale unico, ma è ospedale principale. E naturalmente il mantenimento dei presidi su Verbagna e su Omenia. Grazie.